Grazie a tutti. E questo abbiamo fatto praticamente dalle tre del pomeriggio non abbiamo fatto altro. In particolare noi della Fondazione Varroni che abbiamo organizzato questo incontro avevamo piacere che il professor Sgarbi visitasse in prima battuta la mostra sull'arte di Amatrice e Accumoli che è allestita a Palazzo Dosi. Il professor Sgarbi l'ha potuta visitare oltre che con il nostro presidente Antonio Tonofilo che stiamo aspettando, con il dottor Giuseppe Cassio che è l'ispettore di zona del soprintendente e con la dottoressa Paola Refici che stiamo aspettando anche lei. Li abbiamo lasciati cinque minuti fa a Palazzo Potenziani, era l'ultima tappa del nostro giro perché lì abbiamo visitato un'altra mostra della Fondazione Varroni che è quella Robi da Matti con le opere d'arte degli internati all'ospedale psichiatrico degli anni 50, 60, 70. Diciamo che come si dice a Rieti le cantate le abbiamo fatte tutte, adesso stavamo soltanto aspettando che arrivasse il presidente e la dottoressa Refici proprio perché ci tenevamo che oltre al saluto della Fondazione Varroni ci fosse anche questa brevissima premessa dei curatori della mostra di cui andiamo a parlare questa sera. Più che della mostra o insieme alla mostra delle opere di Amatrice e di Accumoli che sono arrivate qui a Rieti dopo una selezione da parte della sovrintendenza e soprattutto dopo l'azione di restauro condotta dalla Fondazione Varroni con la dottoressa Salvi. Vedo il presidente, non c'è tempo presidente di fermarsi, è già tempo di saluti per cui ti aspettiamo poi per i saluti. Siamo molto contenti che questo lavoro finisca con questo incontro, questo lavoro che la Fondazione ha portato avanti nei due anni passati, finisca con Vittorio Sgarbi che fa da epilogo allo sforzo che noi abbiamo fatto. E' una mostra che viene fuori dalla collaborazione, ci sono alcuni valori importanti che hanno reso possibile questo. Intanto la collaborazione con la sovrintendenza, vedo qui la dottoressa Refici, abbiamo fatto un protocollo assieme alle sovrintendenze, assieme al Comune, assieme al Comune di Amatrice che prevedeva il restauro delle opere che erano state recuperate dal terremoto. Questo già è un primo atto complesso ed è venuto fuori proprio per la disponibilità che le istituzioni hanno avuto in questa operazione, che è un'operazione di partenariato perché è un'operazione dove la Fondazione ha messo la disponibilità economica per restaurare i quadri e gli altri enti hanno dato il supporto necessario perché questo lavoro potesse arrivare bene. Quindi siamo molto felici che questo sia l'epilogo perché a questa mostra noi siamo molto affezionati. E' una mostra sicuramente diversa da quella del carro, il carro è una mostra eccezionale con un reperto, anche quella è stata fatta grazie all'accordo con la sovrintendenza e la collaborazione della sovrintendenza. E' una mostra che ha messo in, che ha evidenziato, ha riportato sul territorio un reperto incredibile, quindi un valore proprio storico e culturale del pezzo che esula dalla misura della provincia. E' una mostra eccezionale. Questa è una mostra che ha più sangue, che ha più sentimento, che ha più partecipazione. Abbiamo fatto la prima esposizione di questi quadri sempre nello spazio in piazza di Palazzo Dosi e sono arrivate le persone che con quei quadri avevano vissuto. E quindi c'era una commozione delle persone che partecipavano a quella mostra, a quell'esposizione perché non era ancora una mostra, che era il ricordo della loro infanzia, il ricordo della loro vita. Era una maniera per rimanere attaccati al territorio. Allora questa è una mostra che rilega le persone alla terra. E' un elemento che se viene distrutto, se viene scollegato, non dà più vita al territorio. Quindi questa c'è un'umanità, c'è un trasporto, c'è, vi ripeto, c'è il dramma del terremoto e la gente che ha vissuto questo terremoto. Credo che oggi siamo, il valore artistico di questa mostra ce lo racconterà il professore, per noi c'è la soddisfazione di aver realizzato questo progetto insieme agli altri che vi dicono che sono stati coinvolti con noi, che è un lavoro che riporta fiducia alla gente che sta sotto il terremoto. Ci auguriamo che questa situazione si concluda velocemente, proprio perché ci piacerebbe rivedere questa gente che questi quadri ha vissuto, ha pulito, ha lavato. Insomma, quando abbiamo fatto quella prima esposizione c'era una coppia che è tornata da Bari perché dice sotto un quadro di una Madonna si erano sposati e quindi volevano venire a ritrovare quel momento di felicità che avevano avuto. Ecco, noi speriamo che questa felicità ritorni a tutte queste povere persone che hanno subito il terremoto e che sono in attesa di avere la loro casa. Grazie a tutti per questa presenza e do la parola al professor Sgarbi che introdurrà la mostra. Grazie a tutti. Avevamo piacere di ascoltare intanto la dottoressa Paola Refice che è stata un nuovo sovrintendente archeologica di paesaggio prima delle province di Latina, Frosinone, Rieti, ora area metropolitana e provincia di Rieti. Quindi, professore Sgarbi, non ti puoi sottrarre perché non fosse altro per la lunga consuetudine non solo con noi della fondazione ma anche col professor Sgarbi. Vi ruberò due minuti perché siamo già in ritardo. Ringrazio la fondazione che è sempre molto caritatevole nei miei confronti e nonostante io sia in pensione si è ricordata della mia persona e del ruolo che ho avuto finora qui. Saluto tutte le autorità che conosco, che ho avuto un modo di conoscere e ringrazio tutti per la presenza. Ovviamente, l'altra volta non sono potuta essere ma ho saputo che è stata molto apprezzata la mostra che è una mostra, come prima veniva detto, di carattere assolutamente diverso dalla presente. quella è una mostra esteticamente raffinata e che ha un contenuto, vorrei dire, minimalista e rarefatto. Questa è una mostra nazional-popolare, vuole essere. quindi vuole essere una mostra in cui la gente si riconosce forse stiamo dando troppo peso al ruolo della popolazione rispetto alle opere d'arte nel momento in cui non ci prendiamo l'impegno e non sappiamo che fine farà questa roba nel momento in cui la mostra finisce. Quindi questa è un'auto, diciamo, denuncia della pochezza a volte delle istituzioni rispetto al futuro del patrimonio. Comunque, molti auguri a questa città e a tutto quanto il reatino. Io continuerò a seguirvi in modo sommesso quando mi sarà possibile. Grazie. Grazie a Paola Repice. Ci tenevamo anche ad ascoltare il dottor Giuseppe Cassio che è l'ispettore della sovrintendenza qui della nostra zona e con la dottoressa Repice è uno dei curatori della mostra quindi la conosce proprio come le sue tasche, come si dice. Solo due parole. Intanto per portarvi i saluti della sovrintendente Architetto Lisa Lambusier che anche questa sera per motivi istituzionali non è riuscita a partecipare e mi ha invitato a porgere i suoi saluti alla cittadinanza e al professor Sgarbi. Ovviamente parlare della mostra oggi mi mette ancora in imbarazzo perché è frutto, diciamo così, di una serie di contatti, migliaia di contatti, di attività frenetiche di deposito, deposito dei beni culturali recuperati dal sisma e come sapete è stato allestito in via emergenziale presso la scuola forestale Carabinieri che ringrazio per la loro veramente disponibilità e ancora per la loro pazienza ad ospitarci nonostante ecco le nostre a volte lungaggini amministrative è frutto anche della volontà di costituire una parentesi di sollievo una parentesi di sollievo un po' per noi, un po' per le popolazioni provate dal sisma un po' anche per quanti desiderano conoscere quel territorio così di frontiera ma anche una sorta di agorà culturale fatta di vari linguaggi, scontri culturali tra Abruzzo, Marche, Umbria, Lazio che però si condensano tutte nella variopinta costellazione di linguaggi e di culture che poi possiamo apprezzare all'interno della mostra non tutto è qualitativamente alto ma tutto rappresenta il territorio che sente così proprio, così suo questo enorme patrimonio che noi stiamo cercando di spolverare, di rimettere in luce, di studiare abbiamo voluto fortemente che la mostra fosse accompagnata anche da un catalogo che avete tra le vostre mani e che sarà l'inizio di un percorso nuovo fatto di ricerca, fatto di studi, fatto di valorizzazione futura ecco appunto la valorizzazione è il percorso che stiamo avviando ora dalla conservazione del patrimonio deve nascere una nuova parentesi è vero che il patrimonio mobile arriva prima di quello immobile però è anche pur vero che dobbiamo fare tutti gli sforzi perché poi questo patrimonio restaurato venga reso fruibile anche seppur in spazi temporanei ne parlavamo poco anzi anche col professore della necessità che le popolazioni del territorio e non solo possano trovare in questo patrimonio la loro fonte di speranza e di sollievo spero che la mostra vi sia piaciuta, sia apprezzata, sia visitata solo la visita vale veramente tanto per il nostro sforzo per quello che stiamo facendo tuttora perché ci sono altre 100 opere ancora in corso di restauro grazie ai contributi del Ministero della Cultura mi piace anche dire che questa iniziativa della mostra ha visto coinvolti pubblico e privato la Fondazione Varrone in particolare il Ministero della Cultura nella soprintendenza territoriale nell'Istituto Centrale del Restauro nella Galleria Nazionale Barberini tutti uniti per far sì che questo evento superasse un po' i particolarismi che ci vedono spesso e volentieri rilegati ma fosse veramente un evento che ha un obiettivo comune allora credo che sia vincente come ha detto anche il Ministro Franceschini visitando il Varrone Lab allestito in piazza Rieti sia esemplare anche e soprattutto per le altre regioni che ci stanno guardando e stanno prendendo spunto proprio dal nostro esempio e dal nostro umile lavoro vi ringrazio arrivederci ringrazio il dottor Cassio e aspettiamo il professor Sgarbi tutto per te, prego mi ero accorto che ho visto un pezzo suggestivo e molto emblematico che non è in catalogo ed è la statua di Sant'Emidio che spero sopravviva in parte la cui città che porta in mano è un frammento esposto ed ha il senso della rovina della caduta e più ancora che della caduta dei muri della morte degli uomini della fine dell'umanità che a quei muri è legata ecco, questo era quello che avevo chiesto non trovando di riscontro nel catalogo all'ottimo curatore Cassio che ha un nome d'antico romano e la giornata di oggi per me è molto importante e fatta l'esperienza della precedente in cui io sono arrivato puntuale all'appuntamento ma non avendo visto la mostra e per responsabilità dei miei collaboratori non informato delle due mostre dei due cataloghi quindi ho avuto l'intuizione di tardare un attimo per andare a vedere una mostra sublime che è la mostra del carro che soltanto alla visione di quelli rilievi formidabili di cultura orientale e di poca conoscenza anche rispetto agli studi degli archeologi mi hanno consentito di passare da una appassionata incompetenza quella che io ho per l'archeologia che mi metteva e mi mutava per richiesta del vostro presidente del presidente della fondazione a parlare di una materia in cui io sono profano sono un attento osservatore di musei archeologici ma ho una particolare antipatia per la loro origine che nasce in gran parte dalle tombe come ho detto e non ho una competenza di archeologo però la potenza straordinaria della qualità di quel carro mi ha creato un effetto di contrasto tra l'incompetenza e l'emozione che mi ha consentito di dire alcune cose che sono, credo, state per quelli che mi hanno ascoltato utili a capire come anche un occhio esterno può contribuire a dire qualcosa al mondo degli specialisti che in archeologia si muovono con una abilità chirurgica e allora preso atto del fatto che non potevo parlare di una cosa che non avevo visto e fortunatamente ho corretto quell'errore questa volta sono arrivato con molto anticipo e ho voluto vedere la mostra quindi ne parlo perché l'ho ben vista ed è materia di cui sono competente trattandosi in larga misura di opere di età moderna la mia competenza è una competenza specificamente legata al Rinascimento e al Seicento però sono uno storico antico e di antica scuola che è curioso di tutta l'arte moderna quindi quella che va da Cimabue fino a Calcagna d'Oro per dire un artista che è legato a Rieti per cui su quello mi muovo come un medico che ha diverse specialità e ho sempre rifugito da una scienza iper specialistica che ha condotto molti miei illustri colleghi anche più anziani di me a diventare specialisti di un solo pittore naturalmente con curiosità ma anche con una specie di dimensione di monopolismo culturale che gli ha resi per esempio necessari per alcuni autori come Guercino che se non avesse avuto nel momento della sua ripresa di conoscenza quindi della sua rinascita come artista importante dopo Caravaggio la figura di Dennis Vaughn non avrebbe avuto l'importanza che ha quindi Dennis Vaughn ha dato molto a Guercino e molto ne ha preso ma pensare che uno tutta la vita studia solo un artista era contrario al mio divertimento alla mia curiosità alla mia voracità alla mia poligamia estetica per cui la mia dimensione di storico dell'arte è molto ampia ma poco specialistica con questo è invece totale incompetenza o appassionata incompetenza come ho detto riferendomi a Montanelli per quello che riguarda l'archeologia quindi oggi le cose che vedo le ho studiate le conosco e posso dire esattamente il contrario che quello che non conoscevo ma che mi ha colpito tanto da consentirmi di parlare con molto entusiasmo oggi invece dove potrei parlare con competenza specifica mi sembra di interesse molto inferiore cioè pochissimo di quello che è in questa mostra ha un interesse artistico assoluto certamente ha un interesse antropologico come spesso ha l'archeologia perché l'archeologia ci racconta la vita degli uomini e noi vediamo in un museo delle cose che non guarderemo mai a casa nostra delle tazze dei piatti e guardiamo delle lucerne nei musei e le guardiamo come se fossero opere d'arte in realtà sono oggetti in uso che sono entrati delle baccheche nei musei e che ci danno quindi una prospettiva storica ma soprattutto una conoscenza antropologica ebbene invece la vostra mostra la mostra del carro non ha niente di antropologico perché anche se fa riferimento a officine e industrie non legate a una singola personalità riconosciuta tra l'altra parte sono anonimi anche i bronzi di Riace ci parla però di una intuizione formale così alta da dirci di un valore assoluto di quello che ha concepito quei rilievi e che oggi sia pur frammentari costituiscono l'esposizione di cui abbiamo parlato la volta precedente e quindi lì non antropologia ma sublime intuizione formale qui invece dove la qualità artistica è piuttosto modesta o artigianale si sente quello che diceva con ottima intuizione il presidente e cioè il rapporto fra i cittadini nella loro condizione di endiadi con i fedeli oggi c'è una tendenza relativistica a dividere il cittadino e la fedele ma fino a qualche anno fa come oggi in Afghanistan le donne delle città d'Italia anche quelle del nord ma soprattutto del sud tiravano con veli neri fino agli anni 60 le fotografie di scianna le fotografie di tanti artisti della fotografia ci mostrano una popolazione che è stata legata alla religione fino a pochi decenni fa oggi molto è cambiato tra la televisione e l'informazione la forza anche di alcuni partiti e anche la loro fine hanno ridotto anche il potere della chiesa a una dimensione più umana che cristiana ma io nella mia formazione ho vissuto la coincidenza perfetta fra cittadini e fedeli e tale mi pare che benché io sia nemico dei partiti moderni che non hanno nessun nome nessuna identità 5 stelle Italia Viva noi per l'Italia Fratelli d'Italia Forza Italia quest'Italia abusata e maltrattata senza identità e abbia nostalgia dei grandi partiti comunista liberale socialista repubblicano e coincidevano a idee e a persone a Inauri a Croce a Gobetti a Gramsci devo dire che ho sempre ammirato nell'ordine di questa mia visione di una politica fatta di idee e di persone e di concezioni profonde sentite anche in quelli che sono i terminali estremi dei partiti cioè quelli che rappresentano nelle comunità dei comuni con questi generici nomi che hanno adesso e molti tradimenti inevitabili spostamenti da una parte all'altra la diaspora di Forza Italia verso la Lega è abbastanza malinconica e così capita di tutto ma questo è di un'epoca di grande decadenza ma pensare che per 50 anni il partito di maggioranza si è chiamato democrazia cristiana si fa pensare a una visione laica di quel partito che laico era fondato pure da Don Sturzo che era un prete ma in cui l'aggettivo cristiano non è un aggettivo confessionale o fideistico ma è un indice di civiltà non c'è civiltà più straordinaria della civiltà cristiana della sua lunga storia e io che sono tendenzialmente un credente tiepido o non credente credo più alla chiesa che a Dio della chiesa sono certo con i monumenti che lo rappresentano di Dio non sono certo per cui democrazia cristiana non è un partito cattolico un partito fideistico è stato un grande partito laico lo dico perché questo serve a intendere come se si è arrivati nel novecento a un partito di quel tipo immaginiamo che il messo causale e la fusione fra cittadino e fedele renda nelle comunità dove le chiese sono così importanti in ogni città ci sono il comune e la chiese il comune e la chiese i campanili e quelle chiese quelle che abbiamo visto oggi indicano un rapporto non solo religioso non solo estetico per i capolavori che tra l'una e le chiese conservano molti e anche gli oggetti straordinari ma soprattutto antropologico in questo caso l'antropologia piuttosto che della mostra di archeologia dove è più logico è nella mostra di arte moderna attraverso la bella intuizione dei curatori anche con la dottoressa Refice che ho conosciuto in altre sovrintendenze e di competenza e di specialità legata al rinascimento per quanto io ricordo e Giuseppe Cassio che cercavano di giustificare la mia non dico delusione ma il fatto che non c'erano capolavori di particolare rilievo e anche alcuni ve ne sono nelle arti applicate nelle arti industriali li state vedendo ma non c'erano grandi capolavori di pittura e così in uno con il presidente Donofrio hanno detto appunto si tratta di una mostra in cui è importante il dato antropologico il rapporto fra i fedeli cittadini di quei luoghi che oggi non ci sono più caduti con il terremoto ma che avevano un rapporto per quegli oggetti che era un rapporto di fede intesa come appartenenza a una comunità e che sono venuti come diceva Donofrio a carezzare e hanno curato queste opere le hanno sentite come un patrimonio della loro comunità delle comunità di piccoli paesi intorno ad Amatrice e a Cumoni di frazioni meravigliose che hanno motivato in me quando ci fu il terremoto conoscendo abbastanza quel territorio come conoscono gli studiosi che si sono occupati o hanno avuto molta curiosità mi rendevo conto che quando vi erano per luoghi come Norcia dove San Salvatore è stata quasi abbattuta ma freschi e meravigliosi sentivi il rimpianto di persone che non c'erano mai state era meraviglioso improvvisamente quello che nessuno conosceva con il terremoto è diventato patrimonio di tutti come i Buddha di Bamiyan che abbiamo visto di più quando gli hanno distrutti i talebani nel 2000 sono cominciati a nascere quando sono stati perduti allora io sentivo persone che triste quelle cose che non avevano mai viste rimpiangevano delle cose che non avevano mai viste non c'erano mai stati magari sia da matrice per gli spaghetti ma non erano stati a vedere i capolavori che rimpiangevano e quel rimpianto era un paradosso logico perché l'era rimpianto di una cosa non conosciuta ma di cui avevi conoscenza quando era perduta quando non c'era più e questo ovviamente vale per tanti osservatori o giornalisti o visitatori o persone turbate nello spirito di italiani dalla violenza che ha colpito a matrice a cumuli a arquatta e i luoghi che ho visto subito come ogni volta che c'è un terremoto vanno a vedere se qualcosa è sopravvissuto e molto è sopravvissuto e talvolta qualcosa è anche riapparso nel palinsesto della storia sotto i cumuli delle macerie e però sentire le generiche dichiarazioni televisive ah sono perduti quei capolavori perduti perché non li hai mai visti prima non li hai mai visti non li hai mai visti capra cioè non li hai mai visti cosa hai perduto hai perduto quello che non sapevi di avere improvvisamente però si sapeva di avere quello che non c'era più e questa è stata la mia lettura di tanti terremoti in cui sono andato sentendo il rimpianto di quelli che non avevano mai sentiti nominare neppure e allora in queste considerazioni anche paradossali delle reazioni che determinano un terremoto quella che ha descritto il presidente della fondazione è quella di un rapporto di familiarità affettiva che non vuol dire soltanto fede non vuol dire soltanto devozione non vuol dire soltanto antropologia vuol dire parentela con quello che tu vedi nella chiesa in cui si è andato tutta la vita a sentire le sante messe e quegli oggetti poi sono travolti dal terremoto e tu li ritrovi recuperati dall'ottima impresa della fondazione e li carezzi come quando trovi una persona cara o vai in un ospedale perché ospedali sono i luoghi dove sono ricoverate queste opere che faticheranno a tornare nei paesi che non saranno ricostruiti diventeranno musei diocesani diventeranno sedi temporali diventeranno luoghi come accettava prima Cassio che potranno essere per lungo tempo la sede di questi profughi che non hanno più casa e però chi li ha vissuti chi ha abitato in quei luoghi li ritrova come trovassi in un ospedale un parente ferito che qualcuno ha curato e che li trovi sano quindi da questo punto di vista non sappiamo dove andranno queste opere tu dicevi una località hai detto ok città ducale ecco città ducale potrebbe nascere un museo che concentra per 15 anni per 20 anni non so quanto sarà il tempo pensando a quello che è capitato all'Aquila e alle modelli meravigliosi di ricostruzione non seguiti abbastanza come quelli del Friuli lì si è ricostruito in fretta e restituendo l'integrità ai luoghi qui vi auguro che lo stesso possa toccare la matrice accumuli ma ho qualche dubbio che sarà lentezza per l'Aquila e talvolta ho anche fatto delle polemiche del mio stile che voglio qui ripetere perché non erano polemiche diciamo antropologiche e però così apparivano quando vedevo che l'Aquila non cominciava a ripartire era molto lenta la ricostruzione lo Stato tardava e arrivava una fondazione come la fondazione di Roma per la chiesa di San Biaso dei Falignami la prima riaperta dopo il terremoto mi è venuto di dire beh è strano però perché evidentemente c'è una rassegnazione dei cittadini che non hanno la spinta a dire allo Stato deve ripartire e sono più interessati a scoprire c'era un procuratore che va a Rossini se c'è l'infiltrazione mafiosa subito la cosa parte prima ancora che cominciano i lavori cosa che è un pregiudizio della magistratura di cui parlerò per un attimo che valeva perfino per i terremoti ma in tutto questo questa lentezza io non l'ho avvertita nella mia regione qualcuno di voi tra i terremoti negli ultimi anni dopo quelli del Friuli dopo quelli dell'Aquila dopo quelli delle Marche dopo quelli dell'Umbria dopo quelli del Lazio di Matrice di Amatrice e poi Lazio e Marche che sono stati molto raccontati ricorderà che c'è stato anche un terremoto in Emilia-Romagna anzi in Emilia non se ne parla più è stato rimosso perché la e questo forse era il razzismo della mia battuta io ho detto perché lì c'è una così forte industriosità tra Lombardia perché è un pezzo di Lombardia ed Emilia-Romagna al di là delle amministrazioni politiche sono talmente vitali che hanno ricostruito in poco tempo le fabbriche le case le hanno rimesso tutte in piedi hanno utilizzato i finanziamenti e quel terremoto è rimosso quando noi pensiamo a un terremoto pensiamo all'Aquila non pensiamo a Modena o a Ferrara vero è che gli edifici pubblici e lo riprobato Franceschini come le chiese di Ferrara sono ancora chiuse e vero è che la ripresa è tutta della industriosità dei cittadini degli industriali degli imprenditori dei proprietari di negozi delle fondazioni che hanno ricostruito tutto il privato tutto a posto a Poggio Rusco a Modena e sono rimaste da ricostruire solo le cose pubbliche lo stato è in ritardo ma che una chiesa o che un museo non siano aperti interessa di meno a quelli che hanno attività di impresa che invece è ripresa al punto tale da rimuovere quel terremoto questa mia considerazione fu presa male all'Aquila dove gli si belli evidentemente sono in attesa rassegnati che arrivi qualcosa dal cielo non era razzismo era un'indicazione paradossalmente antropologica su un terremoto che è stato superato e vinto e un terremoto di cui rimane ancora traccia e memoria come quello della lenta ricostruzione dell'Aquila considerazioni di ordine generale trovandomi oggi molto più a mio agio e vedendo l'ottimo presidente che l'altra volta ci parlò nella preoccupazione del covid per via aerea e quindi vorrei cominciare con le persone a dire di questa mia formidabile giornata che non potrò dimenticare per quello che ho rivisto tra le cose che ricordavo meglio di Vieti dove sono stato in passato alcune volte c'è la meraviglia del palazzo della prefettura che mi è sembrato sempre bellissimo nella sua posizione e le opere di Calcagna d'Oro oggi li ho rivisti l'uno e l'altra e ho aggiunto anche la visita ad alcune chiese ricordavo la chiesa di San Rufo per l'opera di un grande caravagetico che si chiama Spadarino e ricordavo le opere viste soprattutto al museo di uno dei più grandi pittori del Seicento italiano grande quasi come Caravaggio che è Antonio Gerardi un pittore meraviglioso che è stato celebrato con alcune mostre ma non quanto merita per la sua qualità assoluta l'usingandomi di avere della mia voracità nella mia fondazione un'opera di questo formidabile artista che è veramente raffinatissimo e di grandissima qualità benché poco conosciuto molto più grande di quel Francesco Romanelli che abbiamo visto nel Duomo e che pure è un pittore meritevole di attenzione viterbese ma molto oggi devo dire della mia emozione per l'incontro con i curatori all'inizio quando sono arrivato Cassio Erefice con in carne rossa il presidente Donofrio Antonio Donofrio e anche per la giovane donna che ha parlato di cui non mi ricordo il nome che anche oggi è stata estremamente attenta nel portarci a vedere tutto quello che abbiamo visto voracemente e poi l'incontro con un formidabile vescovo che mi è sembrato fresco giovanile i vescovi della mia epoca erano paludati con un'aria solenne e lontana diceva Dino Risi del Papa il Papa deve essere visto da lontano oggi abbiamo un Papa che si vede da vicino forse più giusto più adatto ai nostri tempi ma la chiesa di un tempo era distante e sovrana e così anche i vescovi c'erano dei vescovoni meravigliosi e lontani oggi questo vescovo è un ragazzo pieno di entusiasmo che sembra un po' il giovane Gerry Calà lo dico senza offesa ma d'altra parte con un'aria d'attore ed è stato un incontro insieme a quello con l'ex comunista presidente della Fondazione Varrone che mi ha dato molta emozione dal punto di vista dei rapporti umani con tutti quelli che mi hanno accompagnato pieni di entusiasmo e anche un signore che mi sembrava un operaio invece era un possidente che aveva un quadro secondo lui di Burri che aveva buttato nel cesso tant'era brutto ma una bellissima moglie quindi è stato un percorso poi abbiamo visto i soldati l'esercito i carabinieri insomma una bellissima giornata di cui io voglio dire che le cose che abbiamo più colpito sono oltre agli affreschi significativi nell'area chiusa dove c'è la caserma che sono affreschi ispirati a signorelli di un pittore di metà 500 ma soprattutto la qualità di alcune opere che benché guardate con distacco dal presidente della fondazione sono invece opere straordinarie di un museo civico che è orgoglio di una città con un ottimo allestimento con alcuni capolavori straordinari inarrivabili un capolavoro un triettico che non si può non conoscere un capolavoro di Giannino Di Pietro pittore di cui poco si conosce oscillante tra cultura emiliana e cultura veneziana alcune opere importanti di scultura fra cui un silvestro dell'aquila e poi soprattutto la quantità di meraviglie straordinarie di un pittore che merita ogni attenzione che io tra l'altro ho nella mia fondazione come ho Gerardi ma l'ho acquistato perché mi sembrava talmente bello e qui si conferma che alla sua qualità è pari se non superiore a quella di Sartorio poco conosciuto che è l'autore del fregio della Camera dei Deputati che è una pittura libera del 1909 in quello stesso anno ad Affresco del Consiglio Comunale Calcagna d'Oro faceva una decorazione un fregio meraviglioso per libertà e di qualità infinitamente superiore a un pittore importante e in questo caso c'è il contrasto appunto fra il comunista Donofrio e il comunista Guttuso ecco Guttuso perde la Calcagna d'Oro che è un autore come dire solenne che ha lavorato durante il fascismo ma la cui libertà di esecuzione e felicità di invenzione è veramente degna di un interesse e di una mostra che sarà opportuno fare qui a Rieti o a Roma per onorare questo grande pittore degli anni 20-30 mi pare che sia morto nel 35 quindi ha sviluppato la sua opera tra i inizi del secolo e ancora durante il fascismo un autore straordinario per cui per me è stato emozionante vedere queste cose ripassarle e ritrovare alcune cose conosciute altre come quelle viste nel Palazzo del Vescovo che sono a freschi staccati di scuola giottesca provenienti dalla chiesa di San Domenico di altissima qualità in congiunzione fra l'arte toscana quindi giotto e l'arte romana quindi Pietro Cavallini quindi è un tema importante si è discusso anche da parte di Federico Zeri e di Zanardi Bruno Zanardi il restauratore che addirittura gli affreschi di Assisi quelli di San Francesco della Basilica Superiore non siano di Giotto ma siano di Cavallini non credo che sia una interpretazione che va presa alla lettera però qui abbiamo il punto di congiunzione tra scuola romana e scuola toscana negli affreschi importanti che dovranno essere restaurati che provengono dalle diverse chiese e anche quella di San Domenico recuperata con un tetto che lo ha rimessa in sicurezza ma con un'illuminazione criminale da arrestare di tutti hanno messo l'illuminazione nella periferia urbana e questo evidentemente è un errore del progettista ma insomma emozioni straordinarie e alcune di queste emozioni più o meno contemporaneamente prima che io vi riporti la mostra la volontà giusta del Presidente di portarvi a vedere robe de matti cioè le opere d'arte negli internati nel manicomio di Rieti concepite negli anni 60-80 questo ci ricorda la memoria di Basaglia ma anche quella di Mario Tobino il grande scrittore che fu medico in un ospedale di Lucca e cose a me molto vicine quindi ringrazio il Presidente per aver mele sollecitate per che io le conosessi perché io molto tempo fa feci c'era ancora il Monte dei Paschi una grande mostra arte, genio e follia a Siena e da lì ho derivato un museo della follia che qualcuno avrà visto perché chiamandolo museo l'ho fatto girare con piccole varianti in molte città italiane partì da Matera che da quello poi ebbe l'abbrivio per diventare capitale europea della cultura passò a Mantua che diviene capitale italiana della cultura poi passò a Salò dove c'era aperto un museo nuovo e quindi fu una bella esposizione poi passò a Catania a Napoli dal titolo la mostra aveva come sue indicazioni il museo della follia da Maradona l'ultimo era Maradona perché la follia per Maradona era un'altra delle componenti che abbiamo analizzato credo da Goia a Maradona e poi l'ultima sede Catania Castello Ursino è stata la cavallerizza di Lucca dove la mostra ha fatto centomila visitatori tanto che adesso in attesa di un'altra sede un museo itinerante e forse di una sede definitiva che potrà essere a Gorizia dove ha lavorato Basaglia o a Trieste intanto la mostra sarà la mostra con cui si riapre il bellissimo e a molti noto Palazzo dei Diamanti di cui sono presidente a Ferrara che rimane chiuso per un anno per fare i lavori di adeguamento alle necessità museali quindi il 2 di settembre vi invito a Ferrara del 2022 e questo museo avrà anche un settore due stanze del materiale che oggi ho visto pieno di intelligenza e di fantasia di folli che forse non sono più folli di noi che si chiamano Renato Antonino Primo Pascal Giacinta Aldo che rendono questa mostra nella sua piccola dimensione straordinariamente suggestiva e ripercorrono l'esperienza oltre che di Rigabue di un pittore che io ho studiato anni fa che si chiama Tarcisio Meratti che stava in manicomio a Bergamo che era libero del manicomio e quando usciva dal manicomio le sorelle gli facevano fare degli oggetti da vendere al mercatino quindi lui preferiva essere libero in manicomio che schiavo delle sorelle e poi Carlo Sinelli che è diventato uno dei grandi maestri di Napoli Gabue studiato da Vittorino Andreoli di cui abbiamo recuperato a Trento una serie di 126 disegni fatti da lui maestro oggi riconosciuto monografato e studiato Napoli Gabue è il più noto di questi pittori ma con altri diciamo 80 disegni fatti dai suoi compagni di sventura in manicomio qualcosa di molto simile anche per diciamo l'attitudine mentale che evidentemente costituisce una coine di chi sta nel manicomio che ha una esecuzione molto facile molto infantile ma una fantasia molto libera brevetto esamina pensiero Pittoni sesto renato eccolo qua e osservate insieme alla semplicità anche qualcosa che richiama addirittura cle quindi diciamo che da questo punto di vista questa mostra è per i reatini certamente un motivo di grande sensibilità e presa d'atto di un mondo creativo nella costrizione del manicomio siamo arrivati quindi alla mostra ma prima di arrivare alla mostra vorrei dire di un'altra ragione per cui ricorderò questa giornata non c'entra niente con il presidente con gli amici curatori con la mostra con robe de matti con le chiese c'entra con l'Italia io sono stato così come con Roma quando ho combattuto contro la denominazione che l'ha mortificata da Roma a mafia capitale e ho combattuto fino ad aver vinto in Cassazione quando è stata come dire negata questa variante criminalità sì ma no mafiosa ho combattuto contro la violenza della magistratura che si è buttata contro due carabinieri straordinari il generale Mori e il generale Subranni chiamati colpevoli fino a 12 anni di galera per la trattativa stato-mafia quella trattativa è stata trattata dai giudici coinvolgendo Scalfaro napolitano chiamato da tale travaglio garante della trattativa stato-mafia come se fosse un criminale arrivando fino a Dell'Utri che era facile per le note vicende oggi pochi minuti fa la sentenza a Palermo ha stabilito che non c'è stata questa trattativa che lo Stato in realtà non ha piegato il capo e questo per me è una ragione di grandissimo orgoglio contro inchieste che hanno mostrato quello che Palamara dice e c'è una magistratura che ha in realtà abusato del suo potere per fare attività politica e punire quelli che non andavano nella direzione giusta per cui mentre arrivavo qui ho fatto questo comunicato che mi sembra visto che tutto questo io mi ricordo vidi l'abbattimento delle due torri nella stanza del Ministro Urbani mentre litigavo con lui e vedevo un film strano riguarda gente che si butta dai sembrava un film dopo un quarto d'ora ho capito che ero le due torri e ero in quello studio oggi ricorderò questa giornata per sempre perché in realtà quello che è avvenuto io ero a vedere stavo avviandomi ai matti e quello che è avvenuto mi sembra degno di memoria lo Stato non tratta ho scritto non trattò per Moro non ha trattato per la mafia la giornata di oggi dovrà essere ricordata come giornata di vittoria dello Stato onore al Presidente Scalfaro al Presidente Napolitano al compianto Ministro Conso che fu umiliato un grande uomo al Ministro Calogero Mannino e a quante sono stati infangati da un'inchiesta criminale dalla quale oggi escono a testa alta il generale Mori l'ufficiale dell'Ecranemia di Giuseppe De Donno e Antonio Subranni il senatore Dell'Utri questo processo è stato un processo illegale illegittimo e contro lo Stato che ha rifamato l'Italia come che ha rifamato Roma con l'assurdo epiteto di mafia capitale dovrà pagare sul piano morale e sul piano penale il processo con il tradizionale dello Stato comincia oggi onore ai valori servitori dello Stato i carabinieri Mori di Donno e Subranni credo che questo meriti da parte nostra la certezza che lo Stato non ha trattato ecco quindi una giornata memorabile l'entusiasmo di questa mia vittoria perché io naturalmente pensando che avessi chissà quale ragione politica io sono entrato in politica prima di Berlusconi ho combattuto Di Pietro che oggi è mio amico certo non per fare un favore a Berlusconi convinto che l'invadenza della magistratura avesse limitato l'azione politica e oggi ce lo dice Palamara fui l'unico a votare per eliminare per non eliminare l'immunità parlamentare che non vuol dire l'immunità per i criminali vuol dire la difesa della politica tant'è che da allora è vero che hanno condannato qualcuno ma molti hanno assolti e hanno cancellato i partiti sono spariti i partiti è un atto di violenza culturale il fatto che è stato cancellato partito comunista partito socialista come vergognandosi di quelle sigle questa è la misura di una violenza che ha cancellato dei valori della storia e oggi questa è un'altra giornata memorabile per dare dignità a Napolitano a Scalfaro a Conso che sono stati trattati come se avessero trattato con la mafia ebbene questa che mi è molto cara è la conclusione di una lunga premessa per dire che la mostra che ho visto è una mostra in parte delle cose che ho detto in cui noi procediamo vedendo bello il titolo oltre una sorte avversa e soprattutto creando il pathos di quelli che non sarebbero mai andati a vedere quelle chiese ma che una volta che quelle opere sono state recuperate come fossero persone e lo so mi rendevo conto parlando con l'amico Testori che una persona è più importante di una cappella o di una è vero e quindi la sofferenza che ho provato per la distruzione di alcuni capolavori d'arte supera in me in maniera colpevole la pietà per la morte degli uomini e d'altra parte però le opere d'arte sono anch'esse viventi e testimoniano civiltà che abbiamo alle spalle la morte di una persona può essere molto grave e terribile per i suoi ma non sempre ha a che fare con la storia le opere d'arte hanno a che fare con la storia con la memoria e diceva però Testori in una dimensione cristiana è più importante la vita di un bambino nella cappella Sistina vi pongo davanti a questo dilemma se ci fosse un terrorista con un bambino in mano che dice o butto giù la cupola o gli affreschi di Michelangelo nella nella cappella Sistina o distruggo questo bambino o uccido questo bambino probabilmente avremo più del 50% che sarebbero per distruggere la cappella Sistina non so chi ha ragione però certo diceva Testori salviamo il bambino abbattiamo la cappella Sistina io non saprei rispondere e non saprei neppure se sia giusto tant'è vero che parlando di trattativa abbiamo sacrificato Moro proprio perché lo Stato non piegasse la testa si è ucciso Moro è un tema morale altissimo io nelle opere d'arte vedo una storia di uomini di civiltà le vedo dotate di anima certo che un bambino messo lì con il patos che determina dice uccido il bambino o faccio saltare la cappella Sistina indurrebbe molti a dire salti la cappella Sistina questo è il tema drammatico di un terremoto i morti e le cose abbattute o perdute è chiaro che una volta dimenticati i morti che si dimenticano altro che i loro parenti le opere rimangono come malati che vengono curati attraverso le sovrintendenze e attraverso il lavoro delle fondazioni attraverso una mostra come questa quindi siamo entrati in un ospedale che diventerà un museo del terremoto dove troviamo le reliquie di quei vivi che non erano le persone che abitavano quei luoghi ma i vivi che erano queste opere stesse che avevano la loro vita che oggi viene reanimata dall'altra parte è lo stesso problema che abbiamo per Pompei quando Pompei vediamo quei calchi dove si vedono i corpi delle persone colte nel momento in cui stavano ancora vivendo mangiando bevendo e sono del tutto bloccate ecco perché Pompei è un sito così visitato perché non è un sito morto non è finito con il tempo è un sito sospeso noi torniamo a vedere il punto in cui si è fermata la vita in quel luogo e questo significa però che in quella Pompei c'è una vita che continua con i cittadini che siamo noi che la popoliamo in quel momento contemporanei di quei morti che sono in quei gessi di cui è stato preso il calco a testimonianza della vita perduta in quel momento quindi è un tema complesso quello del bilanciamento fra vita e arte io sono stato educato da un professore che diceva che arte e vita sono la stessa cosa quindi la mia idea è questo pathos davanti alle opere d'arte in cui l'artista continua a vivere senti che la sua anima è impigliata in quella tela ebbene vedendo questa mostra tutto questo si avverte in un modo molto attenuato perché se iniziamo a vedere alcune opere pietre come descrizione documentaria con lo stemma entro lo zanga se vediamo quel frammento di una città che era nella statua di Sant'Emidio se vediamo l'angelo forse possiamo ripartire da ecco vediamo una madonna come questa certo nella straordinaria qualità di molte opere del 200 o ancora precedenti di intaglio bizantino queste che sopravvivono qui in particolare non sono di qualità altissima e però il fatto che siano così lontane nel tempo aumenta il nostro interesse per loro che va al di là della loro stessa qualità estetica e allora adesso nella parte nella seconda parte appunto di questo catalogo dopo aver visto tante testimonianze di opere recuperate dalle chiese si vede l'ambito abruzzese per l'immagine possiamo andare a vedere ve ne do il numero ecco qua numero 60 ecco chi dire di un'opera come questa stava al museo civico di Amatrice quindi chissà quando vi tornerà è una madonna di impianto bizantino con una conservazione sostanzialmente buona anzi ottima è stata restaurata da Roberto Bordin nel 2012 quindi prima il terremoto e poi di nuovo da Anna Paola Salvi e certo l'antichità di quest'opera la rende degna di attenzione più che la sua qualità non è tra i maestri di ambito abruzzese che hanno lavorato nella seconda metà del 200 un maestro di primissima fila ci sono opere più sofisticate però possiamo compiacerci che questa tempera su tavola sia sopravvissuta pressoché intatta cosa che non vale invece per un'opera dello stesso tempo che è il numero 61 che è una Madonna del Latte che ha patito più danno dal restauro che dal terremoto nel senso che se la guardate bene la parte della testa e del collo è un originale di una tavola tardo-bizzantina che è stata però totalmente ripinta probabilmente nel 600 nella parte della veste sia pur seguendo una parte degli ornamenti della veste quindi il copista non l'ha rifatta con un panneggio seicentesco l'ha rifatta con un panneggio che in qualche modo ripete il tratto e quindi i filimenti le decorazioni della veste della Madonna in coerenza con la testa che è quella più originale ma non del tutto originale perché è stata anch'essa ripinta così del tutto nuovi sono il bambino che appare seicentesco i due angioletti a sinistra e a destra e la parte con la pentecoste disegnata della cuspide del pannello centrale ai lati addirittura uno scempio totale perché potrebbero esserti due santi sicuramente rigidi e bizantini sono diventate delle storiette con la Madonna Assunta con l'Annunciazione con l'Incontro di Gioacchino e Dan e gli altri che vedete sono piccole storie di un pittore veramente come dire insomma non vorrei parlarne male perché comunque è una persona che è vissuta anche lui ma insomma un cane ecco diciamo un pittore un crostarolo che ha fatto questa cosa che noi nelle sovrintendenze dobbiamo comunque preservare ma è una cosa veramente inqualificabile e però tutto questo è dentro una struttura è una scatola che è quella di un trittico tardo bizantino romanico potremmo dire abruzzese del secolo XIII ne rimane quindi la configurazione formale la misura in due pannelli totalmente ridipinti e anche il padello centrale che pure mantiene una rigidezza propria dell'epoca cioè diciamo romanica è totalmente ridipinto ecco perché esso si può connettere immaginando come potesse essere all'immagine numero 60 quindi la parte centrale doveva ricordare questa ed è diventata 61 invece questa cosa un po' più pomposa 61 del panneggio della vergine mantenendo però la rigidezza che poi nei due scomparti si è totalmente perduta facendo queste storiette che avete visto guardiamo anche il dettaglio forse ce l'abbiamo o non ce l'abbiamo una cosa invece integra di bella qualità anche se molto popolaresca è già agli inizi del 300 la Madonna in Trono numero 62 che vedete qui che è stata recuperata nel 2016 ma nell'ultima collocazione era un deposito addirittura del Mibact presso la scuola forestale di città Ducale la città di cui prima si parlava è interessante perché ha una certa freschezza mantenendo la policromia del volto e del velo della vergine e anche questo bambino un po' impalato e so ma ha gusto ha sapore come dicono gli antiquari è un'opera che ha sapore e quindi anche essa merita la vostra attenzione è interessante vederla per me che ce l'ho qui prima del restauro guardando eccola qua ve la faccio vedere prima del restauro era stata totalmente impattaccata diventando una Madonna devozionale priva di ogni interesse quindi il restauro in realtà le ha restituito una virginità che aveva perduto vediamo cos'altro ancora un'altra opera che poteva essere numero 63 interessante è questo trittico consibile a quello precedente ma totalmente ridipinto nel panneggio nella veste della vergine viene da un luogo che io stesso non avevo mai visto che è Pinaco Arafranca che è una frazione di Amatrice quindi pensate quanti luoghi dove non si erano mai andati nessuno è mai andato a vedere queste opere oggi esse sono ragione di attenzione di pietas di restauro e quindi assumono una dignità che non hanno mai avuto che era antropologica e cultuale e che oggi diventa invece un interesse per cui siamo qua a parlarne pur vedendo diciamo l'artista fetente che ha fatto la ricostruzione la dipintura e anche qua i due pannelli laterali di grande povertà però certo è un oggetto cultuale è qualcosa che ci risarcisce e risarcisce a chi lo vede il rapporto di chi è stato in quella piccola comunità di pochi abitanti che era Pinaco Arafranca e quindi più interessante invece è il numero 64 perché è un pittore di cui ci si è occupati molto cominciai io con una conferenza stampa in Lombardia per una mostra che abbiamo poi realizzato a Ascoli Piceno dedicata a un pittore che era già un pittore importante ma che è diventato più importante quando la parola amatrice invece di legarsi soltanto a un piatto si è legata a lui cola dell'amatrice un pittore che ha visto Raffaello ma con grande ritegno si è confrontato con Michelangelo ma sentendo la propria inferiorità e quindi accusa partendo da una storia crivellesca vuol dire il pittore Carlo Crivelli un pittore quattrocentesco meraviglioso che sicuramente ha segnato la più importante influenza ad Ascoli Piceno insieme a Pietro Alemanno per cola dell'amatrice il quale però poi intorno al 1515-16 e io possego dalla mia fondazione un'opera di quel momento riconosciuta da Carlo Volpe si è accostato a Raffaello e quindi si è il raffaellito e ha cambiato dalla rigidezza del disegno quattrocentesco di Crivelli alla morbidezza o all'equilibrio alla pittura ideale raffaellesca quando ha visto Raffaello però mantenendo sempre una dimensione devozionale e provinciale di chi ha coscienza dei suoi limiti questa è la stigmata di Carlo dell'amatrice pittore importante grande architetto ma sempre un po' in provincia ha capito che a Roma avrebbe sofferto uno scontro troppo forte e patito un confronto troppo impari con Raffaello e Michelangelo e quindi si è trattenuto nella sua area questa è sull'altare strada sull'altare di Santa Maria del suffragio ad Amatrice poi finita al museo vedete totalmente raffaellesca così come indica la figura di destra che è presa direttamente da Raffaello e anche il gruppo della Sacra Famiglia con il dialogo fra i due bambini che è così frequente delle opere raffaellesche degli anni 8, 9, 10 15 poi anche l'elemento architettonico vedendola rispetto alla foto che restituisce comunque onore la bellezza è anche di vedere che non è stata parchettata quindi ha una curvatura della tavola che il tempo ha dato e il dipinto ha una sua verginità che dopo il restauro comunque conserva perfettamente l'andamento della tavola ed è un'opera che mentre io vedevo appunto la sua stigbata raffaellesca viene datata o è datata o si sa essere stata commissionata nel 1527 cioè sette anni dopo la morte di Raffaello quindi è la testimonianza di un culto raffaellesco in un pittore di provincia che ha avuto grande dignità contemporanea sia di Raffaello che di Michelangelo avendo però la consapevolezza dei suoi limiti che lo rendono un pittore molto apprezzabile perché non ha fatto un passo più lungo della gamba e le sue opere conservate molte conservate al museo di Ascoli Piceno ci danno la misura di una personalità comunque ragguardevole della provincia marchigiana e quest'opera rientra pienamente in questa definizione che io ne do di pittore importante ma di serie B minore e con ciò la parte diciamo significativa della pittura finisce perché non vorrei come dire ammorbarvi con opere come quelle a parte questa numero 33 che ripete un tema diciamo raffaellesco numero 33 nella composizione di questo angelo michele con le anime purganti e non solo raffaello la fonte è anche un'altra no? ce l'ha detto prima ecco perché quell'idea di raffaello è stata poi ripresa da Reni da Reni a Conca quindi è un'idea trionfante del 500 che si declina in 600 in 700 quindi Sebastiano Conca ne ha fatta una sua variazione sul tema di Guidoreni nella chiesa dei Cappuccini che è un'opera celeberrima della pittura del 600 e questa è una declinazione ulteriore cioè un passare Raffaello Guidoreni Sebastiano Conca e poi questo pittorino numero 32 che aspira a un'aria tra Michetti e Patini l'abbiamo guardata e ho proposto un pittore dell'800 poco importante ma certamente significativo per lo senso degli Abruzzi che si chiama Pasquale Celommi è una mia ipotesi su cui si può certamente però è un'opera diminutiva sia rispetto a Patini sia rispetto a Michetti ancora guardiamo oggetti di qualche interesse di gusto barocco come il numero 34 che è una bella Madonna assunta la qualità è abbastanza alta numero 35 non saprei come sia stata qui catalogata ma certamente su questa si può avere una qualche fiducia nella qualità delle opere sopravvissute e questa è data come bottega dell'Italia centrale viene anch'essa dal bel e perduto museo di Amatrice il numero 37 è un'altra rigida madonnina vedete sulla quale non è facile indicare e infatti sono tutte state catalogate come ambito Italia centrale individuando un gusto che è un gusto più devozionale che artistico si arriva all'immagine numero 39 che invece è non attribuita anzi attribuita ma di ottima qualità numero 38 prima perché 38 è un'opera no non ce l'abbiamo poterete metterla non ce l'avete è una bella opera attribuita Ricciolini che ha una buona qualità un'opera devozionale che è tra quelle che hanno maggiore diciamo dignità artistica in questo gruppo più della 39 che invece è stata selezionata tra queste immagini che è accertata forse da documenti a San Giovanni nella chiesa di San Giovanni di Accumuli anzi nella frazione di San Giovanni nella chiesa di San Giovanni con questa immagine di Gesù Cristo Salvatore e il pittore deve essere riconosciuto e documentato perché anzi firma quest'opera e la successiva ed è Giovanni Antonio Valentini quindi su questo abbiamo un elemento di accertamento documentario cominciano poi oggetti devozionali molto divertenti e graziosi soprattutto per le mamme che sono una serie di bambini non so quanti ne abbiano qua qui vedo il numero 40 vediamo qual è eccolo qua vedete e poi ancora 41 42 43 sono cose di bottega dell'Italia meridionale che rappresentano come oggetti di devozione di culto che fanno pensare appunto al Natale non nel presepe ma nella sola figura del bambino che è Gesù Bambino come oggetto di culto rispetto al tema della vita e al tema della nascita e al tema quindi di una speranza che poi appare temporaneamente delusa e nella stessa stanza c'è questa luce e questa ombra questo bianco e questo nero perché 48 49 eccetera sono in contraposizione espositiva molto intelligente temi della passione una via crucis proveniente da sommati frazione di amatrice di un pittore piuttosto modesto di ambito romano e infatti è qui interessante come via crucis non per la sua qualità ma per la sua funzione la vedete 48 49 50 ed è interessante che appunto l'allestimento la veda contrapposta al bambino che è simbolo della vita della speranza della figura di Gesù che qui invece vedete nell'immagine numero 50 55 se ce l'abbiamo eccola qua vedete la desolazione il dolore molto teatrale molto prevedibile preso dalla pittura da Correggio a Carracci la grande pittura devozionale ma con una sua un suo patos che è appunto quello dello svelimento della Madonna a vedere il Cristo deposto molto interessante anche e qui rappresentato nelle immagini che ci hanno allegato numero 57 che è una come dire cornice che serve a come fosse appunto vi ricordate i mangiadischi i mangiadischi avevano quando eravamo ragazzi tanti dischi che si potevano sentire in sequenza questo è un mangiasanti cioè una scatola che tiene dentro l'immagine numero 57 a 57 a 57 b 57 c 57 d 57 e 58 sono immagini devozionali nell'ordine san carlo borromeo l'assunzione della Madonna la trinità adorata dai santi san paolo apostolo sant'antonio la padova che a seconda della cadenza del loro anniversario venivano messi in evidenza dentro questa scatola che quindi è una cornice ampliata che diventa un mangiasanti sostituendoli di volta in volta da san carlo borromeo quindi immaginate che quel contenitore che quel contenitore cioè il numero 57 sia la scatola che ogni volta viene cambiando e girando l'immagine a incorniciare solennemente il santo che viene qui celebrato e in tutto questo l'idea di una come dire volontà dell'architetto che si chiama Nibbi il quale ha disegnato la chiesa e poi ha dipinto tutti questi carlo Nibbi ha dipinto tutti questi santi d'ordine di san padre paolo antonio da esporsi la vigilia festa di san pietro di san paolo come suo legato trascritto nella sagrestia e quindi ha dipinto queste opere perché fossero avvicendate nell'occasione delle diverse occasioni religiose qui lo vedete interessante in questa immagine vedete il fianco del contenitore che ha tutte le scansie proprio come il mangiadischi per contenere questi santi ecco ancora vediamo che cosa ci hanno allegato abbiamo visto più o meno tutte le immagini le immaginette dentro questa bella scatola cornice chiudiamo con un ex foto numero 59 che segna prima della serie di quelle opere romaniche di quelle opere duecentesche che abbiamo appena commentato la fine di queste presenze di arte devozionale quindi di memoria di qualcosa che ha a che fare con un santuario in questo caso la chiesa delle grazie di Prato frazione di Amatrice dove appunto c'è l'ex foto di una persona che ha ottenuto un miracolo e prega la madonna grazie a Gesù c'è qualcosa di molto gustoso di molto popolare talvolta queste opere di ex foto sono più stimolanti come quelle dei matti perché non hanno la cursvollen la volontà di essere opere d'arte opere religiose molto rispettose di iconografie ma raccontano qualcosa che ha l'aneddoto il divertimento di quello che è accaduto del piccolo miracolo locale per la grazia ricevuta quindi qui è accaduto qualcosa che riguarda forse il crollo di una casa e quindi l'intervento della madonna è per aiutare oggi capita il contrario ieri parlavo con Draghi perché sono venuti da me altro tema contemporaneo di grande preoccupazione da Casal di Principe e altri luoghi della campagna rientrita un'interventa camorristica dove persone che non hanno fatto niente vedono abbattute le loro case perché sono abusive il magistrato anche lì abusano del suo potere perché una volta che tu appuri che non l'ha costruita il camorrista non è che cacci la gente di casa e i bambini per strada per dare l'esempio che butti giù delle case che sono brutte come quelle autorizzate il problema dell'abusivismo edilizio e della violenza faccio un incisivo degli ultimi anni al nostro patrimonio è che noi abbiamo 25 milioni di edifici innalzato dal tempio di Segesta fino a oggi ebbene 12 milioni sono stati fatti dal tempio di Segesta che è ancora innalzato fino al 1959 e 13 milioni dal 59 ad oggi quindi abbiamo costruito merda edilizia selvaggia ma non tutta è abusiva per esempio le case dietro la valle dei tempi d'agrigento sono autorizzate quindi quelle autorizzate schifose come le altre non le butti giù talvolta la sovrintendenza si è autorizzata come nella valle dei tempi gli edifici di quattro piani che ovviamente sono autorizzati ma non sono meno schifosi quindi è un tema complesso talvolta il tema antropologico aiutare le persone queste persone che ho visto ieri davanti alla camera che vedono la loro casa abbattuta e non sanno dove andare è un problema importante per impedire che il magistrato voglia dare l'esempio non rispetto a chi è colpevole ma rispetto a chi non ha fatto nulla di male e vive in una casa cosiddetta abusiva ma che non è più brutta di una casa autorizzata anche questo consentitemi di dirlo l'ho vissuto ieri e mi sembra che si possa dire rispetto a temi come l'ex voto in cui allora non c'era Draghi non c'era il prefetto non c'era De Luca il grande presidente non c'era e però i magistrati evidentemente non usavano lo stesso potere e la Madonna poteva come dire impedire che una casa fosse abbattuta commenti sulla devozione perduta ma chiudiamo questo escursus che mi pare sia stato abbastanza esauriente vedendo le cose che invece hanno pregio artistico di questa mostra meno importante di quella del carro ma purezza insieme al suo portato antropologico ricca di cose che per una ragione o per l'altra quella antropologica quella devozionale quella del recupero dei malati qui curati ha invece anche una dignità artistica come dimostra il dipinto numero 9 che è un dipinto a metà strada potremmo dire fra Antoniazzo Romano e Cola della Matrice guarda caso una cultura che viene dalla periferia credo che neanche gli studiosi da Berenson o da Zeri più attenti alle aree minori e soprattutto a quella bellissima arte marchigiana che Zeri e anch'io abbiamo molto amato sia mai stato configno perché quest'opera non sta al museo di Amatrice ma nella frazione di configno nella chiesa di Sant'Andrea è finita nel deposito dei carabinieri di città ducale nel 2016 è stata restaurata nel 2017 ed è stata anche esposta mi pare a Roma ed è un pittore molto molto interessante rispetto al classicismo sostanziale di Antoniazzo Romano qui c'è un espressionismo o un gusto della deformazione che sono propri di artisti come Amico Aspertini di Lorenzo Daviterbo l'opera mi pare essere come si diceva prima con Cassio dei primi del Cinquecento però di un maestro particolarmente significativo legato ancora al gusto mantegnesco crivellesco che si vede avete mai visto nei dipinti di Crivelli quei cetrioli quei frutti quelli che fanno delle ghirlande o degli ornamenti come quello degli encarpi nei sarcofagi eccoli vedete lì ai lati di questo bel trono che richiama Piero della Francesca richiama il bellissimo Nicola di Maestro Antonio Rancona cioè vedete che c'è quella nicchia in cui poggia la testa della Vergine in un altare prospettico da cui pendono questi motivi ornamentali quindi la cultura è quella molto espressiva è la faccia di Santa Andrea molto dinabica quasi da ricordare Saturnino Gatti o Silvestro dell'Aquila la postura da ballerino del San Sebastiano unica immagine di uno maschile della diciamo devozione cattolica o cristiana che desume le sue fogge la sua forma la sua bellezza come segno della della peste in cui due santi uno interviene e prende lui la peste del San Rocco l'altro invece è il simbolo della purezza della sanità che neppure le frecce possono ferire ed è una traduzione cristiana del pagano Apollo è l'Apollo cristiano e vedete che ha quest'aria ed è oltretutto non è una battuta anche il patrono del mondo gay perché appunto è un nudo di un uomo che è infilzato dalle frecce e non soffre ma gode quindi in tutta questa dinamica il pittore qui ha scelto un'interpretazione un po' ballerina che rende la sua figura particolarmente originale il volto così deformato della Madonna è pure insignificativo quindi credo che questa sia un'opera compresa la sua cornice originale che merita molta attenzione e qui comincia come dire la sono i fuochi d'artificio la parte più importante della mostra l'euforia della mostra l'esaltazione i fuochi artificiali con una serie di bellissime croci più belle queste sì di quelle ospitate nel museo civico di Rieti che pure ne ha una bella serie e una di queste di queste croci è dipinta su tavola ed è potentemente giottesca veniterà di essere studiata dipinta su due lati è il pezzo più significativo di quella bella stanza dove vi sono le croci nel museo civico ma qui vince la mostra perché le 4 o 5 croci di altissima qualità esposte nella mostra oltre una sorte avversa consolano della visita e rappresentano la parte apicale dell'esposizione sono questa croce processionale che viene anch'essa dal museo civico che veniva dalla chiesa di San Fortunato dove si vede numero 10 speriamo di averla eccola qua se riusciamo a zoomarla si vede la meravigliosa plastica soprattutto del Cristo ci sono intorno mi par di vedere le immagini della Madonna di San Giovanni di un altro santo vescovo che sta in alto e che qui non riconosco è in basso di credo la Maddalena ecco guardiamolo vediamo ecco vedete la qualità qualità altissima di esecuzione e potentemente quattrocentesca salvo che nel Cristo che ha una memoria addirittura alla Giovanni Pisano quindi ancora trecentesca ma evidentemente nella orificeria la diciamo calettare i tempi come facciamo con la scultura è un po' diverso perché ci può essere un ritardo psicologico visto che qui siamo nel 1490 ma il gusto con cui l'orafo lavora è altissimo per qualità e si manifesta in modo particolarmente significativo nella figura del Cristo al centro che abbiamo visto dall'altra parte il santo potrebbe essere Sant'Emilio che sta nella parte superiore l'altra croce è anch'essa la matrice di qualche tempo prima numero 11 vediamola siamo già all'11 ecco anche qui facciamo lo zoom per vedere come ancora più pisanesco sia il corpo del Cristo di qualità molto alta e anche qua abbiamo in una giusta composizione il Padre Eterno in alto la Madonna a sinistra San Giovanni a destra e il Vescovo in basso come più giusto rispetto alla postura del 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 Vescovo dell'altra croce anche questa sta a a matrice e a quello che leggo perché evidentemente chi l'ha studiata avrà fatto la verifica anche di molti dati dei bolli dei punzoni eccetera databile tra 1450 e 1460 che è una data più diciamo giusta per una croce di questa fattura e anche qui il nome dell'artista coincide con quello della più tarda croce numero 10 ed è il nome di Pietro Vannini che evidentemente è uno scultore che si è educato un orafo che si è educato alla scuola di Nicola di Guardiagrele il meraviglioso orafo abruzzese che ha fatto cose altrettanto memorabili e con la stessa visione la stessa concezione il reliquiario successivo non ce l'abbiamo sarebbe il numero 12 anzi qui è indicato come numero si 12 lo vedete è ancora attribuito no al numero si 12 o sono 12 forse il 13 non lo so è quello questo che vi fai vedere eccolo qua 12 bisera questo smalto invece il 12 è questo reliquiario questo qua appunto attribuito anch'esso anzi anch'esso di Pietro Vannini che è questo orafo di Ascoli Piceno conservato anch'esso nella Pinacoteca nel Museo Civico di Amatrice e questo con un elemento in più che ha i punzoni e dei bolli che confortano della ricerca così molto varia molto qui vedete la raffinatezza di avere avviciniamolo montato sotto questa architettura minore di dimensioni ma non di invenzione un'annunciazione se lo avviciniamo al centro lo vediamo ed è sempre Pietro Vannini in più abbiamo ponendosi essa a metà strada fra la prima la seconda e la prima croce è invece datato e c'è la data nell'iscrizione 1472 se lo guardate con attenzione vedete appunto anche se non l'abbiamo avvicinato che le due piccole sculture rappresentano l'annunciazione opere tutte e tre queste di un meraviglioso orafo che è appunto questo Vannini il numero 12 bis è interessante perché è un cammeo romano di età imperiale romano che sta nella chiesa di San Francesco probabilmente fra gli oggetti di culto che anche si rifanno ha una tecnica o officina antica quindi questa figura è la reliquia della filetta che rappresenta Diana Cacciatrice è un oggetto molto significativo di diciamo tradizione pagana di culto pagano che non è presente in mostra qui mi si dice evidentemente lo tengono perché è molto prezioso tra gli oggetti della chiesa di San Francesco di Assisi continuiamo con un altro reliquiario anch'esso a tempietto ma non più gotico ma diciamo neobramantesco perché ripete il tempietto di San Pietro in Montorio che è il numero 13 sta anch'esso e alla parte evidentemente significativa del perduto museo di Amatrice è quello che era il museo civico con la filotesio di Amatrice e vedete questa invenzione di argento fuso ottore dorato che è un reliquiario a tempietto per conservare al centro come fosse una ostia come fosse appunto uno stensorio una sacra spina una spina della 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 corona di spina di Cristo lo vediamo ecco lo vedete da vicino l'architettura è particolarmente pregevole perché ripete appunto lo schema di Bramante a San Pietro in Montorio 15, 16 e 17 sono di non particolarissima importanza la più bella che non c'è qui nella serie di immagini è la 14 che è un calice del 600 con il corallo di Trapani dove c'è la tradizione del corallo eccolo qua lo vediamo per fortuna è un pezzo prezioso e più ricco di corallo che di argento parzialmente dorato mentre spesso il corallo si distribuisce in un equilibrio con la parte metallica qui invece ha esondato ha abbondato l'artista che usa il corallo e lo ha completamente fasciato di coralli molto insolita da questo punto di vista quest'opera ancora di bottega romana interessante perché reca la data 1612 ed è sempre del patrimonio del perduto museo di Amatrice questo calice che è un calice austeramente numero numero 15 austeramente seicentesco e addirittura ancora con memorie cinquecentesche singolare perché è un'espressione di neogotico non lo vedo però forse qui lo vediamo se c'è non c'è è questo calice di firmato da Adolf Victor Geoffroy Deschomme che vedete qui che è di gusto gotico ma è datato 1977 quindi possiamo cosificarlo tra le cose neogotiche sotto la scritta ce lo dice è il numero 16 lo possiamo vedere eccolo qua numero 16 ecco questo è un oggetto di gusto gotico ma è data fatto nel 1977 poi ci sono alcuni reliquiari del sacro legno in questo caso la spina e la corona il sacro legno invece è la croce divisa in chissà quanti frammenti uno dei quali è contenuto nel numero 17 che è un reliquario ribottega romana di un certo gusto con un disegno particolarmente felice e anche probabilmente con qualche marchio che ci direbbe la provenienza romana il numero 18 punzone o marchio così altro punzone potremmo trovare in questo numero 18 che è una navicella questa per l'incenso che è un oggetto di culto di qualità piuttosto modesta non particolarmente significativa così vediamo il numero 19 che è un calice invece di epoca pressoché napoleonica neoclassica infatti datato 1815-22 che è interessante perché è firmato da un orafo di Montepulciano che lavora nella seconda metà del 1700 dei primi anni dell'ottocento che si chiama Roberto Tombesi si scoprono quindi cose magari poco studiate e figure che riappaiono dalla pozzo del tempo come il Tombesi e anche questa fa parte del patrimonio della Pinacoteca di anzi in questo caso sì è questo però è la sezione degli oggetti e si sa che proviene da San Lorenzo a Pinaco frazione di Amatrice mi pare che possiamo continuare con questi oggetti il numero 21 uno stensorio lo vedete anche questo databile alla metà del 1700 di qualità media un oggetto che vediamo ancora nel culto e di livello inferiore alle meraviglie di scultura orafa diciamo di qualità degna della grande scultura di Pietro Vannini vediamo invece più popolare una croce però trecentesca analoga a quelle che stanno nel museo civico che è la croce numero 22 direi di cultura abruzzese anch'essa proveniente dal museo di perduto di Amatrice e guardiamola vedete ha delle lamine che non hanno la forza delle meravigliose lamine del carro e si vede che la punzonatura e diciamo il corpo della croce con la sua lamine energento è sicuramente trecentesco qualche dubbio sul Cristo probabilmente è stato applicato in tempi successivi mi sembra un Cristo piuttosto di secondo 500 quindi diciamo il corpo dell'oggetto è trecentesco viceversa il Cristo è stato applicato in un secondo momento ancora di bottega romana abbiamo un calice che ci è utile perché tra punzoni e bolli vediamo che è stato fatto da Paolo Quattrocchio nell'anno 1663 quindi è un altro oggetto in cui l'orafo dichiara la sua identità e la cui data è piuttosto antica vediamo se abbiamo ancora qualche altro oggetto sì il numero 24 è uno stensorio sempre della stessa provenienza di epoca incerta qui viene adattato alla prima metà del 600 potrebbe anche essere un po' più avanti viene dalla chiesa di San Lorenzo a Pinaco e la fattura indica a quello che ha fatto la scheda che è sante Guido un'indicazione che viene dal concilio di Trento e questo che lo fa pensare che l'opera sia di alta epoca cioè sia della metà del 600 così a vederlo non direi mi sembra un po' più avanti come avanti è quest'ultimo oggetto del museo di Amatrice che è dell'800 che è un'apisside numero 25 molto semplice molto schematica molto pulita che ha una sua dignità formale direi che avete visto quasi tutto avete fatto questo percorso con me altri oggetti sono gli oggetti devozionali come il numero 33 che pure è derivato da conca come il numero 32 che vi ho fatto vedere non vi risparmio ma vi indico appunto come si può essere anche modesti in epoca alta cioè nei primi anni del 500 questo doppio dittico 28a e 29 28a e b 28 che è comunque una cosa di molto gusto l'abbiamo guardata con attenzione non può essere riferita a un artista di particolare rilievo certo non paragonabile all'autore della bella tavola che abbiamo visto prima però più o meno di quell'epoca e invece guarda hanno tentato qui evidentemente con l'impegno di chi ha studiato l'arte locale di dargli un nome la bottega di Dionisio Cappelli che è un crostarolo abbastanza riconoscibile qui un suo allievo e comunque hanno molto sapore anch'esse sono opere devozionali come vedete con la Sant'Anna e San Giovanni Battista da una parte e poi dall'altra San Lorenzo e Santa Scolastica li vedete in sequenza che sono appunto 28-29 e per farvi andare via con un'immagine che invece non ci faccia pensare alla modestia di questi artisti per capire come essi siano insufficienti rispetto a una forza d'arte che si può raggiungere anche in luoghi di provincia chiudo con il ritorno all'immagine numero 9 che è benché ancora anonima l'opera di maggior significato insieme agli argenti che sia proposta in questa mostra dal terremoto alla ridascita questa bella pala che ci consola di una visita che va al di là delle ragioni nevozionali e antropologiche e ci mostra un'opera che può dialogare con Antoniazzo Romano con il bellissimo trittico del bel museo civico di Rieti e con Cola della Matrice salutando questo artista e augurandomi di poterlo un giorno conoscere vi ringrazio della vostra attenzione davvero davvero interessanti soprattutto per questo suo sguardo davvero attento sulle realtà in particolare siccome molti ce l'hanno chiesto volevo intanto preannunciare che a intenzione della fondazione Varrone riaprire quanto prima anche la mostra che abbiamo a Palazzo Potenziani robe da matti vedo qui il dottor Maglio Paolocci che ne è stato l'ideatore e il curatore quindi lo volevo anche in questo rassicurare ma soprattutto volevo dirlo al pubblico che ci segue da casa adesso con la diretta social e radiofonica ma poi questo incontro andrà anche su RTR nei prossimi giorni sapevamo che anche con robe da matti avremmo toccato un tasso sensibile col professor Sgarbi e non sbagliavamo naturalmente il focus per noi in questo momento rimane sua matrice il compimento di questa operazione oltre a quella di ristabilire di mantenere un legame delle popolazioni col territorio era anche un altro ed era quello di mantenere alta l'attenzione dell'opinione pubblica anche diciamo così nazionale su amatrice e accumuli e non ricordarsene solo ormai con gli anniversari anche questa credo che sia il compimento di questa intenzione della fondazione perché avere qui il professor Sgarbi e avere una dissertazione così puntuale sulle tante opere in mostra in questo momento a Palazzo Dosi credo che sia davvero un contributo anche a questo bisogno di attenzione che quelle zone hanno di attenzione di vicinanza e davvero di conoscenza magari non saranno tutti i capolavori ma quello che si respira in quella mostra è davvero uno struggente senso di memoria di qualcosa che in questo momento non c'è più che forse ci sarà ancora ma senza questo retroterra sarebbe privo dell'anima che invece serve per rigenerare quei territori prima ancora che ricostruirli questo era il nostro scopo ringraziamo il professor Sgarbi che ci ha aiutato in questo percorso la mostra sarà aperta ancora per tutto l'anno la manterremo aperta anche per il periodo natalizio la chiuderemo il 9 gennaio dopodiché comincia davvero l'altro viaggio di queste opere che noi ci auguriamo che si concluda presto con il loro ritorno a casa ringrazio tutti per la vostra attenzione ringrazio ancora il professor Sgarbi e vi auguro una buonissima serata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti